Un uomo di 83 anni è morto in un incendio divampato in una palazzina alimbiata in Brianza. Altri 9 residenti sono rimasti intossicati e sono stati portati in ospedale, ma fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni. Il rogo è divampato in uno stabile tra via Bolzano e via Manzoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e il 118. Grazie per la visione!